Ho ancora in mente l'emozione del giorno in cui sono venuti in visita a Sant'Anna di Stazzema per ricordare il terribile e disumano eccidio nazifascista che ha sconvolto la vostra comunità e l'Italia intera. Come ha detto il Presidente Mattarella, a Sant'Anna di Stazzema si trova una radice della Repubblica. Considero dunque molto importante che in un luogo così significativo per la memoria del nostro Paese si è celebrato oggi l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza, che non mi stancherò mai di ripeterlo, non può ridursi ad un mero omaggio rituale. La memoria è infatti un dovere per tutta la comunità nazionale, soprattutto a beneficio dei più giovani. 76 anni fa l'Italia usciva dall'orrore dell'occupazione nazifascista, delle leggi razziali, di un regime nemico della libertà e fu grazie al sacrificio di tanti uomini e donne, molti giovanissimi, che ci fu garantito un orizzonte di libertà, eguaglianza e democrazia. Gli eroi della nostra resistenza dimostrarono non soltanto un grande coraggio contro la violenza della guerra e della dittatura, ma soprattutto fierezza civica e tenacia nel non rassegnarsi mai. La giornata odierna deve essere anche l'occasione per riaffermare i principi fondanti della nostra Costituzione e ribadire l'impegno ad attuarne pienamente i principi per la costruzione di una società sempre più giusta, solidale e pacifica. Oggi, come allora, abbiamo bisogno della forza ideale civile che animò la resistenza per affrontare nuove sfide, ma anche per respingere ogni possibile nuova forma di estremismo, di violenza e di prevaricazione. Per contrastare l'odio, le ingiustizie, la corruzione e l'egoismo sociale. Dobbiamo essere orgogliosi di festeggiare il 25 aprile e di celebrare i valori della nostra democrazia. Buona liberazione!